professore buongiorno nel suo ultimo libro vulnerabili come la pandemia cambierà il mondo edito per pm suggerisce tre scenari possibili post covid a livello globale esordisce però dicendo che la pandemia ci ha fatto tornare alla politica in che senso nel senso che ci ha fatto scoprire che il punto principale della nostra debolezza della nostra vulnerabilità era che il mondo di interdipendenze costruito intorno a noi in teoria per potenziare le nostre capacità era in realtà un mondo che danneggiava sempre di più la componente più vulnerabile la componente umana e quindi questo ci deve stimolare non a prenderne atto e dire amen ma a richiedere che la parte artificiale delle interdipendenze che costituisce la globalizzazione insieme alla parte naturale delle interdipendenze le pandemie il cambiamento climatico le migrazioni ecco queste due parti vengano rielaborate rielaborate perché politicamente perché se se veniamo da questo mondo e perché chi aveva il potere di decidere o di influenzare le decisioni che hanno portato a questo mondo negli ultimi 40 anni grosso modo ha fatto certe scelte e quindi si chiama siccome siamo politologi e non e non diciamo così poeti sappiamo che o si va a incidere sul potere sulla politica pure nulla cambia in cina sono nati i primi focolai negli stati uniti attualmente si registra il maggior numero di contagi e purtroppo anche di morti come ha cambiato gli equilibri tra queste grandi potenze il coronavirus secondo lei se li ha cambiati intanto ha scosso le traiettorie qualunque fossero le previsioni di una di una collaborazione competitiva oppure di una di una sfida vera e propria tra cina e stati uniti per la leadership nel sistema ha cambiato questa inerzia qualche modo la seconda cosa che c'è dimos che ci ha mostrato è che nella sua nel suo colpire in maniera non sincrona in maniera simmetrica diversi paesi e tornare poi ricolpirli non dà vantaggi definitivi quindi in certi momenti un paese appare più nelle peste in altri momenti un altro attore appare più 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 meglio messo ma alla fine le cose cambiano poco la cina è molto diversa dagli stati uniti come sistema politico istituzionale e quant'altro ma gli esiti di sistemi politici così diversi alla fine sono molto simili in termini di concentrazione della ricchezza del potere del reddito in termini di crescita della diseguaglianza e in termini di impatto che questo ha sulla vita dei singoli cittadini e stanno rischiando attraverso la spinta di entrambi di portarci verso una restaurazione del sistema come era prima dello stop imposto dal covid un sistema che aveva già tutto una serie di problemi e che ci viene invece venduto come se fosse il miglior sistema del mondo e come se il rimedio che potremmo porre e trovare rispetto alla questione pandemia da solo toccasse rimettesse a posto tutti gli altri squilibri e l'italia in tutto ciò che figura ci ha fatto a livello internazionale italia partendo da aspettative bassissime di auto organizzazione ha fatto un'ottima figura in termini di auto organizzazione evidentemente dal punto di vista politico vorrei mettere in evidenza un punto è stata l'italia all'interno dell'unione a sollevare il problema della necessità di un'azione straordinaria che significasse il recovery fund quindi la gratuità di una parte dei movimenti finanziari per venire fuori dalle conseguenze economiche della pandemia ha indicato un punto che non era un suo punto ma era un punto possibile su cui potevano convergere altri e altri hanno progressivamente sono andati in conversione su quel punto in convergenza su quel punto su questo sono arrivati persino i tedeschi che erano i più tetragoni certo tutto straordinario ci hanno detto ma non c'è nulla di più di più normale di più eterno della straordinarietà in politica e intanto si si infilano dei principi si infila un principio che la pandemia deve essere aggredita con una policy che non è diversa strutturalmente concettualmente ma altre politiche dell'unione europea e in seconda considerazione ha inserito il principio che l'unione possa mettere una tassazione e questo potrebbe andare a erodere quel dumping fiscale giocato proprio sugli diversi livelli di tasse che alcuni paesi impongono agli attori economici e iniziare quindi a rendere persino più solida la struttura delle euro e più solida l'unione è una scommessa vedremo come andrà a finire ma è una cosa importante che va riconosciuta